Marco Bucci diventa sindaco di Genova al primo turno, viene così riconfermato il candidato del centrodestra per il capoluogo Ligure e anche in 11 comuni dell'Alessandrino diventano sindaci al primo turno a differenza del capoluogo Alessandria che andrà invece al balottaggio il 26 giugno. Stefano Tacconi lascia l'ospedale e viene trasportato al Borsalino dove inizierà un lungo percorso di riabilitazione, sta meglio però dice il figlio Andrea. In cammino sugli antichi percorsi della via del Sale dal Piemonte alla Liguria da domani si potrà farlo grazie a delle valide guide e anche accompagnati percorsi aperti fino ai primi di novembre. Buonasera dunque come avete sentito ancora i risultati delle elezioni nella nostra apertura questa volta parliamo di Genova e come avete sentito dai titoli Marco Bucci il candidato del centrodestra viene riconfermato alla poltrona di primo cittadino del capoluogo Ligure, il servizio di Dede Vinci. Marco Bucci sindaco uscente di Genova riesce nell'impresa di vincere le elezioni già al primo turno e chiudere la partita portando la vittoria all'ampia coalizione di centrodestra con un netto 55%. Il candidato del centrosinistra Ariel dell'ostrologo si ferma al 38%. La stranezza dei numeri genovesi è che nonostante il partito democratico si sia confermato prima forza in città con il 21,1%. Marco Bucci con le sue due liste civiche vince Genova ottiene il 19% che addizionato al 4,7% della sua seconda lista civica Genova domani riesce a raggiungere un totale di 23,6%. Genova poi se si guarda ad altre due particolarità si dimostra un vero e proprio laboratorio politico. Anche il presidente della regione Giovanni Totti con la sua lista civica che potrebbe diventare un movimento nazionale Liguria al centro Totti per Bucci raccoglie il 9% come Fratelli d'Italia quindi hanno entrambi superato la Lega che si è fermata al 6,8% esattamente la metà dei voti che aveva raccolto cinque anni prima. Il Consiglio Comunale di Genova a questo punto con la maggioranza di centrodestra targata Bucci vedrà 24 seggi alla maggioranza 16 all'opposizione. Secondo i dati diffusi dal Viminale alla lista vince Genova Bucci sindaco spettano 9 seggi e due a Genova domani l'altra civica del sindaco. Alla coalizione vincente saranno assegnati quattro posti alla lista Totti quattro a Fratelli d'Italia, tre alla Lega, uno a Forza Italia e uno all'Udc. Per quanto riguarda l'opposizione entrano i due candidati sindaci sconfitti ma più votati quindi Ariel dell'Astrologo e Mattia Crucioli e il Partito Democratico avrà 9 dei 14 seggi restanti. Altri due consiglieri ispetteranno a Genova Civica, due a Europa Verde e Sansa Linea Condivisa, uno al Movimento 5 Stelle. Tra i consiglieri più votati secondo i dati sul sito del Comune ci sono la Demma Cristina Lodi con 2257 preferenze mentre nel centrodestra il più votato è l'assessore Pietro Picciocchi della lista civica vince Genova con 1029 preferenze. E se come sappiamo ad Alessandria si andrà al ballottaggio tra Giorgio Abbonante e il sindaco uscente Gianfranco Cuttica di Revigliasco, si andrà appunto il 26 giugno, invece ci sono 11 piccoli comuni dell'Alessandrino che il sindaco lo hanno votato già al primo turno. Sì Cristiana, come dicevamo sono 11 piccoli comuni della provincia di Alessandria al di sotto dei 15 mila abitanti in cui si è andati al voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. In cinque centri dove il candidato a sindaco correva con una lista unica il nome del vincitore era già scattato col raggiungimento del quorum domenica sera come nel caso di Alice Belcolle dove è sindaco Gianfranco Martino ha totalizzato con la lista Uniti per Crescere 351 voti. Sempre con lista unica e quindi riconfermati i sindaci di Castelletto Monferrato, abbiamo Gianluca Coletti con la lista civica Siamo Castelletto che ha raggiunto il 70,3% dei votanti, 790 voti e ancora a Morano sul Po è Luca Ferrari sindaco con Viviamo Morano ha ottenuto 603 voti. A Rosignano Monferrato Cesare Chiesa anche qui lista unica insieme per continuare a rinnovare e crescere ha totalizzato 763 voti. A Valmacca è primo cittadino Piero Bovio con la lista nuovo progetto Valmacca e 460 voti. Ora i comuni dove erano in lizza due o tre contendenti alla poltrona di sindaco. A Carezzano è stato eletto Franco Guernier con il 55,71% insieme per Carezzano. Qui ha battuto Mario Alvigini che correva con Carezzano vivo che si è fermato al 44,29%. A Carrosio è sindaco Corrado Guglielmino con il 65,42%, ha vinto con la lista per Carrosio contro Giovanni Battista Traverso che correva invece con alternativa civica, si è fermato al 17,97% e contro Fabio Petrucci di Guardiamo Avanti fermo al 16,61%. A Frassinetto Po, primo cittadino Andrea Serrao con la lista Frassinetto c'è, ha totalizzato il 49,14% delle preferenze sconfiggendo Enrico De Sordi correva con la lista Frassinetto Po nel cuore, fermo al 43,99% e contro Mario Primo di Frassinetto rinasce con il 6,87%. A Molare diventa sindaco Andrea Barisone sostenuto dalla lista Rivivere Molare il 79,93% delle preferenze, ha battuto Eloisa Cuppari che si è fermata al 20,7% con la lista Molare E. E ancora andiamo avanti con Pomaro Monferrato, è Fausto Capra il sindaco di questo paesino con la lista Campanile e Spighe, un netto 89,7% che lo ha staccato da Giampaolo Lumi che correva con Insieme per Pomaro, bloccato all'8,74% e Massimo Doria, Fiamma Tricolore che non ha superato il 2,19%. Infine a Serravalle Scrivia il comune più grande con oltre 6.000 abitanti è sindaco Luca Biagioni con il 60,47% delle preferenze raccolte dalla lista Rinnoviamo Serravalle. Chi ha sconfitto? Gli avversari Gianfranco Pinzone che si è fermato al 21,40%, era sostenuto dalla lista La Forza del Buonsenso e ha sconfitto anche Marcello Bocca che si è fermato al 18,14%, correva con la lista Ripartiamo Serravalle. Questi i risultati delle elezioni nei piccoli comuni della provincia di Alessandria, restituisco la linea. Bene grazie ad Alessandra Della Cà ma dobbiamo parlare anche di un partito politico che sta diventando sempre più grande, quello dell'astensionismo perché è un fenomeno decisamente trasversale che non si è verificato soltanto in Alessandria, in Piemonte e in Liguria ma è purtroppo un fenomeno che riguarda tutta l'Europa. Che cosa ne pensa del fenomeno dell'astensionismo al voto? Tutta la gente che è andata a votare è perché è responsabile, perché il voto è un diritto e un dovere del cittadino, è inutile lamentarsi se poi dopo non si va a votare. Sono stanchi di questa politica, è una politica che non dà niente. Si crede ancora nella politica, dai ultimi dati delle elezioni elettorali nei diversi comuni in Italia e nel referendum alla giustizia la risposta è solo una, no. Infatti è sempre più frequente il fenomeno dell'astensionismo al voto nel paese italiano. Noi oggi siamo ad Alessandra dove solo il 46,4% dei cittadini ha votato per il ripristino della giunta comunale. Andiamo quindi a chiedere agli alessandrini per le strade della città che cosa ne pensano di questa carenza ai seggi. Signori che cosa ne pensate sull'astensionismo al voto in Italia? Noi non abbiamo votato perché siamo di Bosco Marengo, però gli alessandrini hanno fatto male, almeno io la penso così. Era da immaginarselo. Perché? Perché la gente ormai non ha più fiducia nella politica, nei politici soprattutto, più che la politica. Lei di Alessandria ha votato? Sì sì, io ho votato. In quanto cittadina di Alessandria ma anche dell'Italia si sente rappresentata da un partito? No, assolutamente no. Non danno speranze, niente, si sentono un po' delusi, un po' abbandonati, penso che sia questo. In Italia si è combattuto per avere il diritto di votare, io sono nato a metà della guerra e su un partito che si votava al 90%, adesso si vota al 50%, vuol dire che gli italiani sono cambiati e non hanno capito un tubo. Si vede che la gente è stanca, cambia partito, cambia questo, cambia quello, ma le cose non cambiano. Pensionati e vent'anni che prendono la medesima pensione, non cambia niente, la roba aumenta, 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 la gente non ce la fa più andare avanti. Signora che cosa ne pensa sull'astensionismo al voto in Italia? Devo pensare che la gente si è stufata di andare a votare e che poi fanno quello che vogliono, non parliamo del referendum che poi non è stato neanche pubblicizzato, niente. Lei in quanto cittadina italiana si sente rappresentata da un partito politico nel paese? Non tanto. E chiudiamo la lunga pagina dedicata alle elezioni, parliamo di Stefano Tacconi perché è un altro passo avanti per l'ex portiere della Juventus, ha quasi due mesi dal malore dall'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma che lo colpì dopo un evento benefico ad Asti, l'ex portiere della Juventus è stato dimesso dall'ospedale Sant'Antonio e Biagio di Alessandria per proseguire la riabilitazione in un'altra struttura. Dall'esito dell'attacca la condizione di Stefano è risultata stabile, ha spiegato in una nota Andrea Barbanera, direttore della struttura di neurochirurgia dell'ospedale Alessandrino, è stato dunque trasferito al presidio riabilitativo borsalino dell'azienda ospedaliera di Alessandria, qui potrà iniziare il suo percorso di riabilitazione, ha già riacquistato, dice ancora il dottor Barbanera, una buona vigilanza, quindi i presupposti per un progressivo miglioramento decisamente ci sono. Naturalmente dovrà ancora eseguire dei controlli radiologici ma dopo l'ultimo intervento non ha più problemi in sospeso. Erano ripieni ma con 45 grammi di hashish, i peperoni sequestrati dalla polizia penitenziaria di Genova e che erano destinati al figlio detenuto di una sudamericana. Nella sua cella del carcere di Marassi c'era anche un cellulare, gli agenti hanno inoltre perquisito l'abitazione della donna dove è stato ritrovato un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente. Se ne riparla alla fine del mese di ottobre per il processo a carico di 54 lavoratori della INSS di Tortona che oggi in attesa della prima udienza si erano dati appuntamento per un presidio fuori dal tribunale. E' stato rimandato il 25 ottobre il processo a carico dei 54 lavoratori e sindacalisti accusati di violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale per gli scioperi del 2018 al magazzino della INSS Mercato all'interno della Logi Core Park di Torre Garofali a Tortona. Era il 2018 quando alcuni operai decisero di scioperare per il ritardo nei pagamenti degli stipendi e dei ticket mensa oltre che per il mancato rinnovo del contratto di un collega precario. Alcuni lavoratori vennero sospesi e licenziato anche il rappresentante sindacale. Oggi fuori dal tribunale di Alessandria un presidio di protesta dei lavoratori e dei sindacati per quello che giudicano un accanimento della Procura, essendosi la vicenda giudiziaria già risolta mesi fa quando lo stesso Ispettorato del Lavoro aveva riconosciuto che c'erano delle gravi violazioni del contratto nazionale di lavoro. Noi praticamente contestiamo questo tipo di processo che secondo noi ha soprattutto una natura politica che vuole riprimere e limitare le lotte dei lavoratori, soprattutto un territorio come quello di Alessanderino dove è conosciuto come un territorio dove non si rispettano i diritti dei lavoratori. La domanda semplice che noi ma come tanti lavoratori si fanno è tutta questa voglia di portare alla sbarra 54 persone. Ci chiediamo invece quelle stesse aziende che all'epoca erano dentro quel magazzini e che dopo pochi mesi sono scappati come ladri dalla sera alla mattina lasciando un buco di migliaia e migliaia di euro di debiti, dove è la giustizia, dove ci sono i processi, dove sono i procedimenti rispetto a questa situazione. Verranno stanziati 5,4 milioni di euro in Piemonte per contrastare l'emergenza della peste suina africana. Nello specifico la somma sarà investita nella biosicurezza delle aziende sui nicole in tutto il territorio regionale. I fondi si aggiungono all'1,8 milioni di euro di aiuti straordinari a ristoro dei danni subiti in questi sei mesi a causa del virus. La giunta regionale del Piemonte è inoltre destinato 3 milioni di euro per l'apertura di nuovi bandi sulle misure agroclimatiche ambientali del programma di sviluppo rurale a 1 milione di euro per la prosecuzione del progetto seria monitoraggio dei dati agroclimatici a supporto degli agricoltori. Intanto a Cassinelle in provincia di Alessandria si è registrato un nuovo caso di peste suina africana, il terzo da inizio emergenza. Lo avete sentito dai titoli come la via francigena così le vie del sale sono tre antichi camminamenti che si possono fare e soprattutto per gli amanti dei viaggi lenti e in mezzo alla natura. Se siete dei buoni camminatori o anche solo dei principianti che desiderano stare in mezzo alla natura e magari alla fine del percorso vedere il mare ora ci sono tre antichi camminamenti che potrete fare accompagnati da valide guide. Sono le vie del sale, tre antichi percorsi che si snodano tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna e Liguria e che mettevano in comunicazione la pianura padana con la Liguria per l'approvvigionamento del prezioso sale utilizzato per la conservazione dei cibi. Un itinerario meraviglioso ed unico per la varietà dei suoi paesaggi che attraversa terre straordinarie e sorprendenti. Da Varzi a Portofino per contribuire concretamente alla sostenibilità del territorio e del turismo lento. Abbiamo visto nell'ultimo mese, questo di maggio con le weekend di giugno, un aumento incredibile di persone che hanno camminato sui sentieri della via del sale che dalla parte Alessandrina e anche quella Lombarda stanno andando verso la costa Liguria. Si presume che nell'ultimo weekend, quello di giugno, ci siano state 200 le persone che hanno camminato sopra i nostri sentieri. Il progetto, che nasce con il patrocinio della Camera di Commercio di Alessandria ed Asti, è stato reso possibile grazie al supporto di alcuni enti del terzo settore, dal Club Alpino Italiano all'Associazione dei Caminantes. Tutte le informazioni per percorsi che comprendono anche la via del mare, Tortona-Capanne di Cosole e la via Piacentina-Travo-Capanne di Cosola si possono trovare sul sito www.lapietraverde.org. Buon viaggio! Bene, il telegiornale termina qui, ma naturalmente c'è il tempo per ricordarvi che come sempre subito dopo di noi ci sarà la pagina sportiva di Fabrizio Mattana. Questa volta è dedicata dedicata al sport da combattimento, la notte d'oro degli sport da combattimento, ha infatti riunito tanti appassionati da tutta Italia al Palasport di Valenza. In programma infatti c'erano i combattimenti di kickboxing e muay thai, il resoconto appunto tra poco nella pagina curata da Fabrizio Mattana. Grazie ancora per essere stati con noi, naturalmente noi ci vediamo domani sempre negli stessi orari. Buona serata.